Jeff Bezos, il re di Amazon per eccellenza, in prima linea contro il razzismo, che ha un patrimonio davvero passesco e il più ricco del mondo, si è espresso a favore delle ragioni e delle proteste della campagna chiamata Black Lives Matter, andando però a ricevere diverse critiche e addirittura qualche insulto. Sarebbe stato lui stesso a pubblicare su Instagram alcune delle mail di protesta ricevute da alcuni clienti che avrebbero l'improverato di essersi esposto a favore delle proteste contro il razzismo di una parte della società americana. Jeff Bezos, nell'appoggiare i manifestanti di tutto il pianeta, aveva infatti sottolineato come il razzismo su una piaga antica, profonda, che negli anni non è mai stata debellata, abolita e per questo è destinata a tornare sotto forme diverse. Anche per tale motivo nel sito internet Amazon era stato aggiunto un banner pubblicitario dedicato alla cosiddetta campagna chiamata Black Lives Matter. Vi ringrazio per l'ascolto, attenzione però che non tutti i clienti di Amazon hanno preso bene la, diciamo così, decisione. Una donna ha addirittura mandato un'email di protesta, proprio lui, al patron di Amazon Jeff Bezos, protestando in maniera palese, forte, cogente. Vi ringrazio, un salutone caro da Leandro, un narratore italiano, iscrivetevi a canale e buonasera da voi.